Salve a tutti ragazzi, sono Mario Minel, tra l'eputo di Marco Pellegrino. Significare, essere, apparire, eccetera, sono lo stesso. Se fossero semanticamente distinti fra di loro, allora sarebbero uniti da un'identità impossibile, poiché tale identità sarebbe la contraddittorietà di quella distinzione. Appunto perché questa identità significherebbe qualcosa invece che nulla, cioè sarebbe, cioè apparirebbe, altrimenti nulla di tale presunto identità si potrebbe affermare. La proposizione l'essente e il qualcosa esiste è pleonastica, perché non vi è alcuna distinzione semantica tra il termine essente e il termine esiste. Se questi due termini fossero semanticamente distinti, sarebbero uniti da un'uguaglianza che, sub o edem, sarebbe essente ed esistente. Se cioè si sostiene che l'esistere si distingue dal qualcosa, si sostiene allo stesso tempo che questa distinzione è inesistente. Infatti, se esistere differisce da qualcosa, questi due distinti sono uniti da un'identità che, esistendo ed essendo qualcosa, e non potendo essere oggetto di analisi, appunto perché l'analisi è già stata operata in base all'asserzione che l'identità si distingue in esistere qualcosa, è l'immedesimazione, cioè la non distinzione e il qualcosa. La non distinzione è di esistere qualcosa. Se si afferma la distinzione tra l'esistere e il qualcosa, si deve affermare, sub o edem, la loro identificazione. Se esistere qualcosa fossero distinti, lo sarebbero proprio in quanto identici, e sarebbero identici proprio in quanto distinti, ossia ciò che vi è di identico nei distinti, esistere qualcosa, sarebbe la loro identificazione in quanto distinti. Quindi l'essere è l'autoguaglianza assoluta che si distingue relativamente in se stesso. Principio di non contraddizione. L'essere si contraddice relativamente, vedendo tutto se stesso e capendo, in quanto è il stesso, è la conoscenza stessa, è il sapere stesso di non essere il nulla assoluto, che è inconstitualizzabile, a differenza del nulla relativo, che è presente all'interno della coscienza totale dell'essere, di non essere il nulla, appunto. Quindi il principio di non contraddizione. Il tutto si contraddice relativamente per non contraddirsi assolutamente. È proprio il fatto che l'essere si distingue in se stesso, la vera opposizione al nulla, al nulla assoluto, ma come? Attraverso la coscienza, la consapevolezza del nulla relativo. Anche l'essere si e il non essere altro sono lo stesso. All'orché si afferma che l'uguaglianza fra l'essere si e non essere altro è sia un esser si che un non essere altro, si intende tale uguaglianza come un termine non analizzabile. E quest'ultimo termine è, si sta dicendo, esser se e non essere altro. Pertanto l'uguaglianza che si differenzia in esser se e non essere altro non può esistere, dato che quel che vi è di uguale nel differente è l'annullamento della differenza collocata fra i differenti e quindi l'allunamento stesso dell'uguaglianza concepita come differenziantesi in esser se e non essere altro. Che l'esser se non differisca dal non essere altro significa, inoltre, che se l'ente, l'esistenza, che è identico a sé, è esser se e che non è il nulla assoluto l'altro, comprendesse un differenziarsi tra tali essere identico a sé e non essere il nulla assoluto, ne risulterebbe che l'ente, nel suo essere identico a sé, differisce dal non essere il nulla assoluto e cioè non è un non essere il nulla assoluto, ossia è nulla assoluto e che nel suo non essere il nulla assoluto non è identico a sé e cioè anche qui è nulla assoluto. Si tratta dunque di comprendere che l'essere uguale a sé, l'essere se e dell'essente, è il suo essere non nulla, il suo non essere nulla essente, il suo non essere non essente. L'unica differenza rilevabile è appunto sempre quella tra l'essente e il nulla, cioè tra l'essere e il non essere, ossia tra il sé e l'altro. L'essente è uguale a sé, ossia il non nulla, e cioè è identico a non essere il nulla, il suo non essere l'altro da sé. Non insussiste alcun differire tra essente e non nulla, l'unica differenza è tra l'essente e il nulla. Dunque, esistere, esser sé e non essere altro, da uno stesso significato, esistenza, positività, essente, essenza, sostanza, forma, ente, qualcosa, cosa, essere, esser sé, non essere altro, non essere nulla assoluto, significare, significato, significante, essere identico a sé, essere in sé per sé, sono termini semanticamente uguali al termine coscienza, io, soggetto, apparire, manifestarsi, illuminarsi, vedersi, specchiarsi, trasparire. La coscienza è l'assoluto, ma da ciò non consegue che nella coscienza non appaia alcuna incoscienza. Appare l'incoscienza relativa, cioè la relativa coscienza. L'incoscienza, in quanto nulla assoluto, non è. Il nulla assoluto è l'assolutamente alto dell'interesse essente e quindi tra essere e il nulla assoluto è posto una relazione relativa per la quale si stabilisce che l'essere include in sé stesso il nulla relativo. Non esiste un'uguaglianza trascendentale che unisca l'essere e il nulla, altrimenti l'essere sarebbe il nulla, ma esiste un differire relativo per il quale è necessario affermare che il tutto essente accerchia in sé un certo numero di nulla relativi, cioè di parti. Il tavolo non è la sedia, il monte non è la stella, ogni differenza non è ogni altra differenza. Il tutto esistente, immediatamente il suo essere già da sempre e per sempre è contrapposto al nulla assoluto. Contrapporsi al nulla assoluto significa non contrapporsi a qualcosa che sia altro dall'essere stesso. Che l'essente non si contrapponga significa che esso si contrappone al nulla assoluto. Tuttavia si sta dicendo è inevitabile che l'uguaglianza tra essere e il nulla assoluto sia in qualche modo essente ed implichi che l'essente contenga il sé in uno relativo. all'uomo all'uomo Grazie.